Questa è mia nonna, del 27, che lavorava vicino alla pizzeria, proprio quel posto. Allora, siamo 7-8 chili, siamo un collettivo artistico formato da tre persone che vengono da campi di studio e ricerca diversi. Allora, abbiamo scelto di usarvi in quanto artisti, quindi abbiamo bisogno di uno specchio esterno che ci aiuta a raccontarci. Si comincerà dalla domanda sul perché siete tornati qua. Noi siamo tornati qui perché avevamo questa esigenza e eravamo convinti che fosse necessario stare qui, portarlo qui il nostro lavoro. Noi siamo tornati qui perché avevamo questa esigenza e eravamo questa esigenza. Noi siamo tornati qui perché avevamo questa esigenza.